Domani l'area di piazza Casalbore che nei mesi scorsi ha ospitato il mercato verrà interessata dai lavori necessari per la sanificazione ed anche per tutti gli accorgimenti richiesti per il distanziamento sociale all'interno delle aree mercatali. A Via Robertelli invece fervono i lavori per il settore ittico per il quale sono stati richiesti banchi in acciaio dove spore i prodotti del mare ed un vestiario appropriato per garantire la sicurezza dei clienti e dei venditori in vista del ritorno al lavoro che avverrà martedì. Linee gialle per terra per delimitare la distanza tra clienti, guanti, mascherine, visiere, camici in cotone sopra i quali indossare dei camici useggetta ed in più, come hanno stabilito i mercatali nel corso delle riunioni dei giorni scorsi, si farà attenzione affinché gli operatori preposti alla vendita dei prodotti non abbiano da svolgere anche le operazioni di cassa. Pertanto una persona servirà ai clienti, un'altra provvederà a riscuotere il denaro e a dare eventualmente il resto. Per l'ottofrutta sarà necessario utilizzare contenitori lavabili in cui esporre la merce. Dopo l'ordinanza della scorsa settimana del governatore De Luca, gli operatori delle aree mercatali avevano stabilito di rinviare l'apertura ed ora aspettano il definitivo via libera per l'inizio della prossima settimana. Lunedì avverrà la ripartenza che eseguirà modalità ben precise anche per regolamentare gli accessi alle aree in cui si svolge il mercato. In base ai metri quadri, infatti, all'apertura sarà possibile far entrare un determinato numero di persone di volta in volta, tenendo ferma la regola che ad ogni uscita corrisponde un nuovo accesso. Ingresso ed uscita dei mercati saranno separati. Il presidente dell'AMBA, Ciro Pietro Fesa, ha fatto sapere che per i mercatali è una vera corsa contro il tempo, anche perché c'è difficoltà nel reperire materiali, come l'acciaio nel caso dei pescivendoli, richiesti per l'esposizione della merce, oltre a tutto ciò che serve infatti dispositivi di prevenzione e sicurezza personali. L'auspicio è che da lunedì il mercato possa tornare ad accogliere i clienti nella più totale sicurezza e l'AMBA spera che presso il governatore De Luca possa recarsi di persone a verificare la situazione per accertarsi del gran lavoro fatto in questa settimana per soddisfare tutte le prescrizioni normative.